Sono stati 124 gli aretini over 60 che hanno sfruttato la finestra aperta dalla regione toscana per vaccinarsi anche senza prenotazione, così si è infatti chiusa la giornata vaccino dei. Erano 300 le dosi di AstraZeneca riservate alle persone con più di 60 anni che non si erano ancora vaccinate nell'aretino. La serata al centro affari è subito partita bene, un grande afflusso di persone già sin dal tardo pomeriggio, in tanti infatti alle 18 erano già in fila nonostante lo slot aprisse alle 20. A metà notte vaccinale, cioè alle 21 e 30, erano state somministrate 105 delle 300 dosi di AstraZeneca disponibili. Alla conclusione si è arrivato a 124 persone vaccinate, quasi la metà dunque dei vaccini della scorta disponibile per la campagna di vaccinazione straordinaria e notturna che ha visto tutti i principali abba regionali aperti sino alle 23. Al lavoro nella notte tre medici, cinque infermieri e volontari dei vigili del fuoco in pensione che hanno regolato le file e gli accessi esternamente al centro affari.